Allora, ciao ragazzi, un saluto a tutti in questa magnifica giornata del Movimento 5 Stelle. Vi auguro di poterci essere con noi e vederci tutti quando ci sarà la diretta. È meraviglioso. Siamo sempre attenti a tutto quello che riguarda le persone. Siamo noi cittadini in Parlamento e siamo noi che dobbiamo cambiare le cose. Compreso tutto quello che sta avvenendo a Leon Fonte, noi ci interessiamo a quello che sono i problemi della cittadinanza, perché siamo noi cittadini, quindi è quello che vogliamo fare. Abbiamo presentato l'interrogazione per la questione dell'ospedale di Leon Fonte e noi vogliamo che se i cittadini pagano i servizi, i servizi devono essere al servizio del cittadino. Ciao!